Una volta hanno trovato una donna delle pulizie che era svenuta, cioè era entrata a pulire e era rimasta intossicata. E noi ci hanno detto che una persona può svenire per mille motivi, che sicuramente il motivo non era l'intossicazione, che se uno deve svenire, sviene. Ognuno di noi vuole dare il massimo, essere il massimo. Veloce e efficiente, ad ogni costo. Ci hanno detto che potevano essere solo coincidenze e quindi io mi ripetevo che potevano essere solo coincidenze.